Buon pomeriggio a tutti carissimi cinefili e carissimi cinefili, ben ritrovati in questo nuovo video. Dunque, oggi non si tratta di una delle solite recensioni, diciamo così, su un film che ho visto, anche perché il prossimo che andrò a vedere è Joker, quindi poi quando lo avrò visionato ve ne parlerò. No, oggi quello che mi interessa è un attimino commentare questo caso che è improvvisamente esploso dopo delle dichiarazioni fatte dal maestro indiscutibile Martin Scorsese che in un'intervista rilasciata per l'Empire Magazine ovviamente l'intervista verteva principalmente sul suo ultimo film, The Irishman, che ha riscosso un applauso quasi unanime della critica, tutti quanti ne parlano molto bene, c'è chi addirittura urla al capolavoro assoluto, vedremo, vedremo quando uscirà, io spero di poterlo vedere al cinema. Comunque, ciò che di questa intervista ha suscitato discussioni, polemiche, è una dichiarazione fatta nel momento in cui Scorsese ha risposto a una domanda per quanto riguarda i cinefumetti e in particolare i cinefumetti della Marvel. E qui ci sono dei virgolettati, poi l'intervista andrebbe vista nel suo complesso, ancora io non sono riuscito a trovarla, qui io vedo uno stralcio che viene riportato dal sito IGN e così viene riportata questa frase, questo brano dell'intervista. Al regista è stato chiesto dei film dell'universo cinematografico Marvel. Non li vedo, ci ho provato, ma questo non è cinema, ha risposto Scorsese. Onestamente la cosa più vicina a loro, a cui riesco a pensare con gli attori che fanno il meglio, che possono in queste circostanze, sono i parchi a tema. Non è il cinema degli esseri umani che cercano di trasmettere esperienze emotive e psicologiche ad un altro essere umano. Poi c'è anche un altro pezzetto che non viene riportato qui, dove lui comunque riconosce che questi film sono comunque dei prodotti ben fatti, almeno dal punto di vista estetico sono fatti bene, gli attori si impegnano, eccetera, però, appunto, hanno poco a che fare con questo tipo di cinema che lui vede, che lui considera. Ora, è chiaramente l'opinione di Martin Scorsese. Martin Scorsese è chiaro che ha fatto un cinema e continua a fare un cinema che è molto diverso, che non c'entra nulla con i cinefumetti. Martin Scorsese ha sempre cercato di avere un contatto, come posso dire, diretto e intimo con la realtà. Scorsese ha sempre cercato di raccontare il quotidiano, comunque un certo tipo di quotidianità, con un piglio verista. Questo noi lo vediamo, non so, con Main Streets, lo vediamo con Taxi Driver, quei bravi ragazzi, eccetera. C'è quasi uno studio antropologico fatto da Martin Scorsese quando mette in scena questi film. E anche quando lui, con fuori orario, vira sul surreale, sul grottesco, sull'ironico, comunque continua ad essere fortemente ancorato a tematiche e a questioni che hanno a che fare con la società, che lui comunque racconta. Quindi è chiaro che i cinefumetti hanno poco a che fare con la realtà che ci circonda, o quantomeno il loro fine non è quello di raccontare la realtà per come la vede Martin Scorsese. E però quello che dice Scorsese può essere anche condivisibile, ma è prima di tutto la sua opinione, prima di tutto il suo punto di vista. Scorsese non è che sia il dio del cinema, Scorsese è il dio del suo cinema. Quindi quando lui parla di un suo film e di una sua opera, lo si può solo stare ad ascoltare. E se di una determinata parte, di una scelta, di un'inquadratura, di un dialogo, qualsiasi cosa, se di un dettaglio che riguarda un suo film, lui ne dà una descrizione, ne dà una chiave di lettura, io non è che posso permettermi di dire no, non è così, perché lui è quello che ha realizzato quell'opera, o comunque che ha fortemente contribuito a realizzarla, perché comunque il film è sempre un lavoro corale, però lui ha contribuito a realizzare quel film, di quel passaggio lui dà quella visione, dà quella interpretazione, e io come faccio a contraddirlo? è comunque il suo film, io non posso andare contro la sua visione. Poi posso dare il mio punto di vista, chiaramente, ma se il regista mi dice guarda, questa cosa che dice il personaggio, o questa immagine, questa scelta cromatica, questa inquadratura, significano questo, io ti ascolto e ti dico sì, ok, va bene, accetto questo tipo di visione, questo tipo di spiegazione. Per quanto riguarda invece il tema dei cinefumetti, in questo caso, lui non li gira, non li fa, qualcuno, penso, penso che qualche film della Marvel comunque lui abbia visto, perché non credo che lui esprima, spero di no, non credo che lui esprima opinioni così a caso, ne avrà visti alcuni, non tutti, non gli piacciono, non gli piacciono perché secondo lui non hanno questa caratteristica, che invece i suoi film hanno, sicuramente. dal suo punto di vista è così, è la sua opinione, ma non è che Scorsese vuole dire che in senso assoluto i cinefumetti sono spazzatura. Non entrano in sintonia con quello che è lui, ma io, per esempio, i cinefumetti me li guardo, diversi film li ho collezionati, ho un'opinione diversa dei cinefumetti, ma non credo che Scorsese abbia voluto esprimere il suo personale punto di vista per farsi pubblicità, per poter fare polemica a priori, Scorsese non ha bisogno di questo. E comunque stiamo parlando di un parere personale. Ora, prendiamo per esempio un altro caso. Kubrick, quando parlava di Eisenstein, diceva che il suo era un cinema vuoto, sicuramente importante dal punto di vista del linguaggio, ma la sua sostanza non è che fosse un granché. Lo considerava un cinema vuoto. Ora, perché Kubrick ha detto una simile cosa di Eisenstein, allora devo pensare che Kubrick è impazzito? No, è la visione di Kubrick sul cinema di Eisenstein. Per me Eisenstein invece è un artista che ha espresso oltre nei suoi film, oltre ad avvalersi di una tecnica, di un'estetica, di un linguaggio sublimi, ma anche dal punto di vista della sostanza è un cinema forte, potente. Per Kubrick non era così, ma va bene, è l'opinione di Kubrick. ognuno ha diritto al proprio punto di vista. Le risposte che sono arrivate dai vari Joss Whedon e James Gunn, sì, sono risposte di registi che invece i cinefumetti li hanno fatti, li girano, li realizzano e che li considerano in maniera diversa. Forse la risposta di James Gunn è una risposta secondo me un po' troppo drammatica, perché quando lui dice ah ma sono triste che lui consideri i cinefumetti in questo modo, perché in Guardia della Galassia ci ho messo tutto me stesso, ma sicuramente caro James Gunn anche quando, parafrasando Fellini, anche se tu parlassi di una di una soglia la saresti autobiografico, comunque metteresti te stesso in quel racconto, ok? E quando hai fatto Guardiani della Galassia 1 e 2 hai messo te stesso, hai messo il tuo tocco personale, va benissimo, va benissimo, ma ripeto, Scorsese che è il dio del suo cinema, il dio del proprio cinema, verso quel tipo di cinema, perché cinefumetti comunque sfido chiunque a non considerarli cinema, sono un tipo di cinema che evidentemente il maestro non non capisce più che non capire non hanno nulla da dirgli, non lo interessano, perché il discorso che fa Scorsese nei suoi film e che cerca negli altri film è altra cosa, ha a che fare più con il reale, ha a che fare con come dire, con l'umanità realistica. Ecco perché Scorsese adora il cinema del neorealismo italiano, perché lui adora Rossellini, perché adora Rosi, perché adora De Sica, perché il loro cinema è un cinema che lui sente vicino, sente proprio, e lo ha fatto proprio, perché nei suoi film ritroviamo l'influenza di questi grandi artisti, quindi Visconti, se ne potrebbe parlare per ore. Quindi tutta la polemica che è sortita fuori intorno a questa dichiarazione secondo me è una polemica sterile perché Scorsese ha espresso semplicemente il suo punto di vista personale, senza la pretesa che ciò fosse il parere da, non so, da Ipsedixit aristotelico. L'ha detto lui, è lui, è legge. No, non c'ha questa pretesa, non gliene frega niente. Gli hanno fatto una domanda, lui ha dato una risposta, punto. Quindi prendetela per quello che è. Poi si può condividere, si può non condividere, però senza fare discorsi, eh, mossa pubblicitare, eccetera, secondo voi Scorsese ha bisogno di fare una roba del genere, è Martin Scorsese, cioè basta il nome, basta la sua filmografia, non ha bisogno di queste cose, non gliene frega niente a lui, come Cronenberg, uguale, non gliene frega niente a lui di farsi pubblicità, esprime un punto di vista, un parere, fine, fine, quindi state calmi, non è successo niente, si parla solo di cinema. Bene, detto ciò, noi ci rivediamo al prossimo video, che sarà appunto la, sarà il mio punto di vista su Joker di Todd Phillips, spero di assistere a un bel film, e niente, ne parleremo però la prossima volta. Ciao a tutti e buon fine settimana. e buon fine settimana. e buon fine settimana. e buon fine settimana. e buon fine settimana.